Le criticità della nostra regione sono purtroppo uguali a tante altre criticità, c'è una carenza di professioni mediche, di medici, di professioni sanitarie, però come voi sapete abbiamo svincolato tutte le possibilità per le assunzioni. Sanità abruzzese sotto accusa dopo la bocciatura da parte del tavolo di monitoraggio che in primis ha contestato alla regione un buco di 57 milioni. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì risponde alle critiche e rivendica il lavoro fatto. Da un punto di vista economico c'è una previsione di un disavanzo che come sempre sono alcune aziende che perpetuano in questa diciamo problematica di disavanzo ma stiamo lavorando proprio attraverso questo tavolo che noi abbiamo attuato anche nella nostra regione per avere un maggiore monitoraggio tra il Dipartimento Salute della nostra regione e le aziende ALS. Altra questione sollevata da Roma è quella dei regali alle cliniche private che con l'aggiunta Marsilio non dovranno più fornire i numeri dei ricoveri e delle dimissioni dei pazienti e a cui è permessa senza alcuna giustificazione una maggiore oscillabilità del fatturato. Per quanto riguarda il privato stiamo avviando un lavoro eccezionale ossia verifichiamo quelli che sono i flussi della nostra regione quindi un reale fabbisogno sanitario e verificare anche dove gli accreditamenti dovranno essere avviati in base a quello che è la necessità di tutta la nostra regione dove c'è un maggiore sovraffollamento e dove abbiamo difficoltà da un punto di vista pubblico.